Ciao amici, come al solito benvenuti o bentornati qui su Pausa Caffè e passiamo subito alla notizia, ma prima vi ricordo che potete commentare, lasciare like, condividere con i vostri amici e iscrivervi se non l'avete fatto, così non vi perderete le nuove uscite. La stretta italiana sul carovoli decisa dal governo, nell'ultimo CDM prima della pausa estiva, ha innescato una dura reazione da parte delle compagnie aeree in primis dal CEO di Ryanair Wilson subito sceso in campo contro l'iniziativa dell'Italia di intervenire per decreto contro i rincari, specie verso le isole della Sardegna e della Sicilia. A distanza di qualche giorno ora anche l'Associazione Europea delle Compagnie Aeree, Airlines for Europe a chiedere maggiori informazioni alla Commissione UE perché chiarisca con l'Italia l'impatto del decreto sul mercato europeo del trasporto aereo, libero e deregolamentato. E, lamentando un possibile effetto domino in altri paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere e fissare i propri prezzi e servizi. Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Urso, le misure assunte sono però pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori. Il Mimit è inoltre affermato di essere intervenuto dopo fenomeni speculativi evidenziati dal garante della concorrenza nelle tratte da e verso la Sicilia. L'Enac, ha aggiunto, ha appurato come il costo dei biglietti sia cresciuto in modo del tutto anomalo proprio in coincidenza con eventi catastrofali, come il deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze-Castello o dell'alluvione in Emilia-Romagna, quando non erano praticabili altri mezzi di trasporto. Il Ministero ha fatto poi sapere di voler tutelare i cittadini utenti dai fenomeni speculativi emersi proprio nei momenti di maggiore bisogno. Quanto all'algoritmo che profila gli utenti, è una pratica commerciale distorsiva e che lede anche il fondamentale diritto alla privacy, e ciò è assolutamente inaccettabile, ha evidenziato il Ministero, tornando a puntare il dito contro Ryanair. La compagnia aerea che ha maggiormente evidenziato tali questioni risulta essere stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall'autorità garante proprio per fenomeni distorsivi del mercato. Nella lettera inviata la Commissione UE e le compagnie aeree esprimono il timore che il piano del governo italiano possa costituire un precedente e portare a un effetto domino. Limitare le tariffe il violerebbe i diritti delle compagnie e di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono. La libertà dei prezzi è una componente fondamentale del successo del mercato unico europeo dell'aviazione, ha affermato l'Associazione, e siamo preoccupati che il decreto legge in Italia contravenga alle norme dell'UE che garantiscono questa libertà e comprometta seriamente il mercato unico dell'aviazione. Abbiamo chiesto alla Commissione europea di affrontare le nostre preoccupazioni con le autorità italiane e di garantire il pieno rispetto delle leggi dell'UE che regolano il mercato unico dell'aviazione in Europa. La Commissione UE conferma di aver ricevuto la lettera dell'Airlines for Europe. La stiamo esaminando, afferma un portavoce dell'esecutivo comunitario. Per il resto, ribadisce la posizione già espressa sul decreto, i servizi della Commissione hanno contattato le autorità italiane e si aspettano di ricevere informazioni più dettagliate sul contenuto della misura in questione, dice. La Commissione sostiene le misure volte a promuovere la connettività a prezzi accessibili, purché in linea con le norme del mercato interno dell'UE. Il diritto dell'UE, all'articolo 22 del Regolamento 1008-2008 sui servizi aerei, garantisce la libertà delle compagnie aeree di fissare i propri prezzi, a condizione che rispettino le disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi per garantire che questi siano esposti in modo trasparente e non discriminino i consumatori in base alla loro nazionalità o al luogo di residenza, sottolinea l'esecutivo UE. La concorrenza sostenibile con la libera fissazione dei prezzi è di solito la migliore garanzia di prezzi accessibili nel mercato del trasporto aereo, UE che è liberalizzato e di grande successo, viene ribadito. Sono in casi molto specifici ed eccezionali come, ad esempio, rotte da per regioni remote che non sono adeguatamente servite dagli operatori di mercato, si segnala ancora. L'UE consente agli stati membri di stabilire obblighi di servizio pubblico per garantire livelli minimi di servizio e connettività territoriale. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.